La questura di Lecce ha avviato un'indagine volta ad identificare il gruppo di manifestanti aderenti al comitato Notap, protagonista ieri sera di una protesta con slogan e lancio di uova all'indirizzo del servizio di ordine pubblico che aveva impedito agli antagonisti di accedere all'interno della sede Arci di via Pappacoda, dove era in corso un dibattito alla presenza di Massimo D'Alema. Il divieto ha scatenato l'ira dei manifestanti che sono andati via via aumentando di numero, tanto che sul posto è arrivata anche una squadra di agenti intenuta antisommossa per espingere i ripetuti tentativi di forzare il cordone di sicurezza all'ingresso della sede. L'auto sulla quale era arrivato D'Alema è rimasta leggermente danneggiata. Sull'episodio intervenuto in una nota anche Anna Caputo, responsabile Arci di Lecce, che precisa che la decisione di non fare entrare i manifestanti è stata delle forze dell'ordine. Secondo la questura, inevitabile il divieto, considerata la premeditazione dei manifestanti di impedire il regolare svolgimento del convegno, visto che oltre a essersi presentati con bandiere, drappi e striscioni contenenti frasi contro la costruzione del gasdotto a Melendugno, sono state contestualmente lanciate in uova verso l'ingresso della sede. Inevitabile il divieto dunque da parte degli agenti di sicurezza di consentire ai faccini orosi l'ingresso, consentendo in questo modo che l'incontro si svolgesse senza problemi e disordini. Intanto sono già in corso, mirate indagini, con la visione dei filmati della Polizia Scientifica per l'individuazione di coloro che si sono resi responsabili dei comportamenti illeciti.